La vicenda dell'appello fatto dal direttore sanitario e medici degli altri reparti per garantire turni aggiuntivi al pronto soccorso è soltanto l'ultima di una lunga serie di problemi che hanno caratterizzato la vita dell'ospedale negli ultimi tempi. Che tipo di considerazione facciamo come inizio di questa intervista? Se dovessimo andare avanti per slogan io potrei dire cronaca di una morte annunciata. Mi pare che delle premesse che poi hanno portato a questa decisione, a questa azione forte da parte del direttore sanitario dell'ospedale di Sciacca, ne avevamo accennato nell'ultima intervista che abbiamo fatto con lei, se non ricordo male, nella primavera dell'anno corrente. Perché già allora era facile capire che con l'avvicinarsi dei concorsi per l'ingresso nelle scuole di specializzazione, tutti questi medici assunti con contratti a tempo, co-co-co-co e variabili e altri tipi di contratto, in questo modo hanno maturato dei requisiti, dei titoli che gli sono valsi per l'ingresso nelle scuole di specializzazione. Lavoro che è incompatibile con quello di dipendente di un'azienda ospedaliere. Lei si riferisce al personale assunto per l'emergenza Covid? Per l'emergenza Covid, buona parte di questi medici hanno, beati loro, per loro fortuna, hanno investito, hanno tesaurizzato questi requisiti, questi titoli e sono entrati nelle scuole di specializzazione e quindi hanno lasciato i posti che occupavano le diverse riparte, in particolare nel pronto soccorso Covid e non Covid. Quindi sono riemersi tutti i problemi legati alla mancanza di personale che non sono nati col Covid ma precedono il Covid e che con la chiusura degli ospedali alla normale attività ha fatto emergere i problemi accantonati, nascosti per usare un altro logo comune sotto il tappeto e che sono puntualmente emersi quando qualcuno ha alzato il tappeto. La situazione aggiornata per quello che è il pronto soccorso è questa, che non basta poi solo i numeri sulla carta, su una dotazione astratta teorica di circa 9 unità di medici, o perché alcuni hanno esenzioni speciali oppure perché qualcuno ha un contratto che gli impedisce di fare le notti, la dotazione di fatto del personale effettivamente utilizzabile è di poco meno di 7 medici, perché sono 7 medici, ma uno di questi non può fare le reperibilità e forse nemmeno le notti e quindi a malapena è possibile garantire la presenza di un medico per turno. Quando sono in due vuol dire che si ricorre ad altri istituti, tipo straordinari, rinvio di ferie, rinvio di riposi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché noi da anni parliamo di questa questione dei concorsi che sembra sempre che siano in milì per essere fatti e poi invece non si fanno? Allora, io utilizzo un altro slogan. Concorsi mi scusi che non riguardano certamente soltanto il pronto soccorso, riguardano tutti i reparti. No, no, riguardano tutti i reparti di tutta l'ASP, per non essere equivocati. Di tutta l'ASP. Un altro slogan che potrei utilizzare è un titolo che c'era su un numero dell'Espresso uscito nel 2020, se non ricordo male, e recitava così. Sanità malata, nazione infetta. Quindi riporti questo slogan nella nostra realtà e viene fuori che in Sicilia è in atto. in piccola parentesi, il messaggio trasmesso dai vertici dell'ASP da Agrigento negli ultimi almeno 10 anni, quindi non è una cosa occasionale o legata alle contingenze, è che si sta provvedendo, sono casi isolati, quanto prima rimedieremo, eccetera, eccetera, eccetera. La realtà è che c'è un disegno preciso a livello regionale di ridurre al minimo l'attività della sanità pubblica per convogliare le prestazioni meno onerose e che comunque non comportano investimenti eccessivi, fra virgolette, verso le strutture private. Questo è un disegno chiarissimo. Noi abbiamo una miriade di convenzioni con istituti del Nord. A scalare, va bene, nella periferia, andando poi nella concretezza delle singole realtà, questo si traduce in che cosa? In un rinvio dei concorsi per primari sinedie, senza soluzione di continuità, perché c'è sempre un'elezione che si utilizza per raccogliere il consenso, un posto che finché rimane precario si può promettere a più persone, eccetera, eccetera, eccetera. Il risultato è quello che vediamo. Ma quando lei dice convenzioni degli istituti privati, in che modo vengono organizzate? Vengono organizzate attraverso trattative o di fatto o tramite convenzioni ufficiali. Ma è chiaro che quando il pubblico si dimostra inefficiente e quando addirittura il privato garantisce, proprio perché il pubblico scoraggia l'accesso alle prestazioni specialistiche con strategemi diversi, il pubblico diventa concorrenziale anche quando offre tariffe, per esempio, inferiori a quelle del pubblico. Le visite libero-professionali o specialistiche, oppure gli esami di laboratorio, a partire dai tamponi, nelle strutture private vengono garantite a costi inferiori a quelle della struttura pubblica. Come si spiega il fatto che si diceva che durante la pandemia, se qualcosa di buono c'era in questa pandemia, era che finalmente lo Stato aveva destinato nuove risorse economiche alla sanità pubblica, e dunque tutto questo sarebbe stato un valore per il futuro. Invece lei ci sta dicendo che le cose non stanno così, perché anche se le risorse sono state elargite, bisogna vedere come vengono poi gestite a livello periferico. Possono essere utilizzate per assumere personale, ma anche per ristrutturare reparti che non rappresentavano sicuramente un'emergenza. E possono essere impiegati per comprare doppioni di apparecchiature che già si avevano. Oppure il modo in cui si possono sprecare risorse disponibili, indipendentemente dal risultato che si vuole raggiungere, rappresenta una specialità dalle nostre parti. Lei ha sentito parlare dell'istituzione dell'emodinamica all'ospedale di Castelvetrano? E' un ospedale di base, questo dimostra quale potenza abbia questa concezione miope della sanità a livello regionale. Noi creiamo un'altra emodinamica a breve distanza da un ospedale che gravitava per queste prestazioni sul nostro ospedale, indipendentemente dal fatto che lì ci sia o meno una cardiologia, perché l'emodinamica esiste in quanto propagine specialistica all'interno di una cardiologia. E poi rischiamo di avere situazioni come quelle che si verificano a Sciacca, in cui la cardiologia per esempio di Sciacca ha un organico abbastanza buono, nel senso che mi pare attualmente sia intorno a 14 unità se non ricordo male. Bene, con 14 unità noi dobbiamo garantire la presenza della guardia di cardiologia negli ospedali di Licata, Canicattì e Ribera, ma non abbiamo attivato il servizio di cardiologia ambulatoriale nell'ospedale di Sciacca. Per cui lei telefona al centro per notazione e le dicono che la possono garantire una prestazione di questo tipo a distanza di una settimana o due settimane, però in uno di questi centri. Mi chiedo, se noi utilizzassimo al meglio questi medici, invece di distribuirli per l'intera provincia non si sa bene per fare cosa, visto che evidentemente gli organici di questi reparti non sono così stabili, noi potremmo attivare anche l'attività ambulatoriale e fornire un servizio a tutti i comuni, quindi ai cittadini dei comuni del distretto di Sciacca che sono costretti ad andare molto distanti da Santa Magherita, Montevago, Partanna, ma anche da Partanna, fuori dal distretto, Menfi, Caltabellotta e così via, invece che usufruire di queste prestazioni in loco, sono costretti a spostarsi dove impone la fantasia degli organizzatori della segnalità agrigentina. Brevemente, abbiamo aperto col pronto soccorso e chiudo col pronto soccorso. Parlo di quello di Ribera, dove c'è una comunità che è anche supportata naturalmente dalla politica e che vuole il pronto soccorso, così come l'hanno chiamato, generalista, non vuole quello Covid. E qui il pronto soccorso di Sciacca rischia di non poter funzionare, com'è possibile immaginare che ce ne possa essere un altro anche all'ospedale di Ribera? Questa è la conferma della fantasia, diciamo, spropositata, che alimenta le iniziative dei nostri amministratori della sanità in provincia di Agrigento. Allora, noi abbiamo, come le ho detto poco fa, poco più di 6 medici effettivamente utilizzabili. Consideri che per avere un medico, nelle 24 ore, in qualsiasi reparto, ci vogliono non meno di 7-8 medici. Per avere due medici, lei deve avere almeno 12, cioè due medici per turno, deve avere almeno 12 medici effettivamente presenti a lavorare. Noi abbiamo 6 medici a Sciacca e 3 a pronto soccorso Covid di Ribera. Mi chiedo, che tipo di organizzazione del lavoro è questa? Considerando che il pronto soccorso di Ribera può accettare soltanto emergenze Covid, si potrebbe organizzare in maniera diversa, cioè unificare, centralizzare il pronto soccorso e ridurre, come dire, le difficoltà dei pazienti prima e degli operatori dopo. E quindi, scusi, un paziente affetto da Covid come viene accolto? Poi si potrebbe fare un ambulatorio, diciamo, del reparto a ciò dedicato. Non è difficile. Questo chiamare a raccolta tutti i medici, in forma volontaristica, degli altri reparti che già spesso hanno un organico precario, quindi noi spostiamo risorse da reparti già sofferenti per colmare transitoriamente e sulla carta le sofferenze del pronto soccorso e mi chiedo, il lavoro a pronto soccorso non è fatto solo della presenza fisica del medico o dell'infermiere, ci sono competenze, si chiamano così, che vengono acquisite nel tempo, la traumatologia, c'è tutto anche un apparato di accettazione di burocrazia, anche di procedure informatizzate, per esempio i consulti, i teleconsulti, diciamo, di tipo in ambito neurochirurgico che non si improvvisano in uno o due giorni. Allora trasferire un medico, per dire ho spostato tre medici, avete visto, per ora rimediamo così, è semplicemente come dire, come nascondere la polvere sotto il tappeto finché qualcuno non scoprirà di nuovo la monnezza che è stata nascosta. Avvocato Cucchiara, una delle battaglie, forse la prima battaglia del Comitato Civico per la sanità di Sciacca è stata proprio quella di ottenere per l'ospedale Giovanni Paolo II il riconoscimento di ospedale Spock, dunque di primo livello. Questo riconoscimento è arrivato e tuttavia siamo di fronte ad una serie di problemi che erano quelli che c'erano anche prima. Qual è la sua opinione su questo? La mia opinione è che si è interrotto quel rapporto di presenza attenta in termini anche di controllo da parte dei rappresentanti del popolo, cioè quella iniziativa del Comitato ha avuto esito positivo perché noi siamo riusciti a coinvolgere per certi aspetti sfondando una porta aperta i sindaci e la deputazione. Questo fatto ha costretto, tra virgolette, le autorità regionali a modificare la propria proposta. Che significa questo? Significa che il territorio, per certi aspetti al di là di quelli che sono i profili di natura obiettiva, va difeso. Non è possibile assistere a situazioni come quella dell'emodinamica di Castelvetrano di cui si parlava un attimo fa. Questo che significa? Significa che la sanità può essere considerata, ed è il peccato più grande, come una sorta di fonte di potere. Punto e basta. Non è così. La sanità rappresenta uno dei settori più importanti di questo mondo. Perché? Perché lì c'è in gioco la salute. E quindi la gestione va fatta sulla linea della professionalità e della grande passione, non del potere fino a se stesso. Si fa così perché, lo dico io, lì muore qualcuno e a me che mi interessa. Tu devi fare esattamente quello che ti dico io, anche se le decisioni sono delle decisioni sbagliate. E siamo al discorso che si faceva poco fa a proposito delle risorse finanziarie aggiuntive. L'utilizzo delle risorse va fatto tenendo conto sempre della salute. Questo è il problema. E della salute garantita soprattutto attraverso le strutture pubbliche. La domanda che io mi pongo oggi rispetto al mercato del lavoro, ma c'è un'offerta capace di soddisfare le esigenze che con il Covid si sono ampliate o no? A noi risulta che ci sono queste risorse. Quindi ci sono gli operatori sanitari disponibili. Certo non disponibili a contratti a tempo determinato. Certo, ma la soluzione lì si può trovare. Noi non siamo a dover cambiare il mondo o intervenire su aspetti per i quali l'uomo non può fare nulla. Qua noi siamo nel settore in cui buoni amministratori, gente che svolge con cognizione di causa il proprio ruolo riesce a dare una risposta. Com'è possibile pensare che in un momento, ancorché molto difficile per il Covid, ci siano delle persone che vengono abbandonate al loro destino senza avere il conforto sul piano anche affettivo dei propri familiari. Lei sta parlando del fatto che gli ospedali sono blindati. Sono blindati quindi, ma il problema è... Blindati per l'emergenza Covid, però insomma qualcosa bisognerebbe fare. Sì, appunto tu non puoi lasciare in una situazione assolutamente inconcepibile di disagio da tutti i punti di vista. Questi sono problemi per i quali vanno assunte delle iniziative e per le quali io insisto sempre. Su questo va esercitato il controllo. Che fanno i nostri deputati? Io mi riferisco a quella denuncia fatta dall'ingegnere di Giovanna. E lo ripeto, che lo faccio mio, ma che fanno questi nostri deputati? I partiti non esistono in linea di massima. Per cui il rapporto con chi gestisce il potere, è il caso di dire chi gestisce il potere nel settore della sanità, si risolve sul piano personale. Questo che significa? Significa che io do la risposta a una tua esigenza personalissima per la nomina di Tizio, di Caio, eccetera, eccetera. Dopodiché tutto viene lasciato così al nostro destino. E dico al nostro destino perché per me è un problema di cultura. Lei ha parlato di fatto gravissimo, riferendosi all'appello fatto dal direttore sanitario ai medici degli altri reparti a coprire turni aggiuntivi al pronto soccorso. Come lo considera questo fatto? Un po' come uno smascheramento della realtà, di quella che il dottore Giuliano diceva della polvere che viene nascosta sotto il tappeto? Sì, in parte è così, perché tu vuoi dare una risposta al problema attraverso la richiesta di prestazioni aggiuntive. cioè rispetto a una richiesta del genere la risposta può essere data in termini di disponibilità personale ci vuole il consenso degli altri medici. Allora il problema e la domanda che mi pongo io è questo ma scusa, tu direttore sanitario non hai visto sei mesi fa che saresti arrivato a questa conclusione se tante altre a partire dal comitato te lo hanno detto. e arrivi a questo punto se sai che c'è una situazione di grande disagio da parte dei medici e del personale ospedaliero in generale una richiesta del genere non accompagnata quantomeno da una iniziativa forte che costituisce la risposta alla domanda perché con questo utilizzo di medici con richiesta di prestazioni aggiuntive tu risolvi il problema in quale termine? nei termini di una settimana o due settimane e allora io la domanda che ti pongo è tu nei sei mesi e nell'anno precedente che cosa hai fatto? quindi questo è il problema. voglio concludere chiedendole ricordando che un anno fa durante l'estate il comitato sanità ha fatto dei sit-in davanti all'ospedale poi ha deciso di sospenderli sulla base di alcuni impegni che il commissario aveva assunto nei vostri confronti è possibile dire che questi impegni non sono stati mantenuti? e beh lì il problema sicuramente si è creato una situazione di grande disagio noi abbiamo voluto intanto dichiarare la nostra disponibilità perché in presenza di una situazione di emergenza a noi è sembrato giusto evitare che sul piano anche di una certa tensione che si crea che questo potesse rappresentare un ostacolo e quindi è stata una dichiarazione di fiducia nei confronti del commissario straordinario del dottore Zappia con il quale il rapporto non è stato mai cattivo però le cose hanno un loro linguaggio e parlano da sole alla fine senza andare a individuare il responsabile di tutto quello che sta succedendo è certo che le cose non stanno bene tant'è che noi ci siamo posti il problema ma a questo punto qual è la soluzione? è quella di un comitato più presente o la soluzione sta nel fatto di quella denunzia del cittadino di Giovanna che dice ognuno di noi significa ogni cittadino deve fare la propria parte e la dobbiamo fare senza perdere tempo perché chi testa chi un parla si chiama cucuzza il problema è per me la conclusione che è un fatto di cultura noi abbiamo questa struttura sanitaria perché il livello di coinvolgimento delle persone è molto ma molto basso noi alla fine contentiamo di lamentarci parlare e sparlare a tutto campo senza capire che perché nel nord e in altre parti c'è una situazione diversa dalla nostra e questa è la domanda alla quale dobbiamo dare una risposta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti